Chiamatelo come volete, la promessa, il talento da tenere sott'occhio, la certezza è che si chiama Francesco Caffiso, musicista siciliano, originario di Vittoria, noto sosaffonista di fama internazionale, Caffiso è riuscito a plasmarsi una brillante carriera. Appena 24enne si è già conquistato il ruolo di primo piano nel mondo del jazz, in occasione della stagione concertistica del jazz club caffè ci racconta la sua formazione e il suo punto di vista sulla musica in una lunga intervista. La musica è una passione che nasce sin da giovanissimo, tant'è che all'età di 9 anni eri già considerato uno dei talenti della musica jazz, ci raccontaci cosa ricordi quel bambino? Beh io ho iniziato appunto giovanissimo, avevo solo 7 anni, ero un bambino e niente ho avuto la fortuna di essere nato in una famiglia che mi ha sempre assecondato affinché io potessi coltivare le mie passioni e la mia più grande passione, il mio più grande amore che è appunto la musica. Poi la fortuna di aver incontrato un grandissimo didatta, una persona molto carismatica che ha saputo trasmettermi l'amore per la musica e poi insomma la voglia di fare, la voglia di fare tante esperienze, insomma a 9 anni sono entrato a far parte dell'orchestra jazz del Mediterraneo che era una delle realtà più importanti a livello regionale e lui ha iniziato a fare le mie prime esperienze a fianco di musicisti del calibro di Gianni Basso, Maria Snyder, Giorgio Gunzi e molti altri. Poi i primi premi, i primi concorsi e fin quando poi a 12 anni ho avuto il privilegio di aprire il set di Winton Marsalis al Pescara Jazz Festival. A proposito di Marsalis, lui è stato uno degli incontri più importanti della tua carriera, in che cosa ha influito? Beh, sicuramente mi ha introdotto al mondo del jazz in modo definitivo perché a 14 anni sono andato insieme a lui e alla sua band in tour per tutta l'Europa ed è stata un'esperienza formativa molto importante che mi ha fatto crescere moltissimo. A rientro in Italia c'è stato un vero e proprio esploma mediatico che poi mi ha fatto conoscere un po' dappertutto e ho iniziato a girare come leader dei miei gruppi. Insomma, Winton è stata una figura fondamentale nel mio percorso artistico di uomo e di musicista. Da Vittoria, quindi quel ragazzino, oggi gode di tantissimi titoli, addirittura all'Umbria Fest è stato riconosciuto, ti hai dato il titolo di ambasciatore della musica jazz nel mondo. Senti il peso di questa responsabilità e non solo, la passione per la musica ti ha portato a fare delle rinunce? No, non ho mai fatto delle rinunce perché, come ho già detto prima, la musica è la mia più grande passione e la vivo come un gioco, come un divertimento prima di tutto. E poi ovviamente diventa anche un lavoro, anche se non mi piace definirlo un lavoro. No, non è mai stato un peso, non ho mai sentito il peso della responsabilità perché ho semplicemente fatto e continuo a fare quello che amo più in assoluto e lo faccio con la massima naturalezza. È una domanda che ti faranno in tanti, ma non ti posso non chiedere di raccontarmi le emozioni che nel 2009 a Washington davanti il presidente Barack Obama è suonato e anche in onore di Martin Luther King. Cosa ricordi quell'esperienza? Beh, anche quella è stata un'esperienza incredibile perché innanzitutto mi sono ritrovato al fianco del gota del jazz mondiale. C'erano musicisti incredibili da Roy Haynes a Dave Brubeck a Marsalis e poi insomma ritrovarmi in un contesto storico e sociale così importante per me è stato bellissimo. Ho avuto l'onore e il privilegio di condividere la musica in un momento così festoso con alcuni dei musicisti più importanti al mondo. Recentemente un tuo brano, Don't Stop, è stato arrangiato come sottofondo di uno spot pubblicitario. Ha mai pensato di spostare la tua carriera verso il cinema, la televisione? Guarda, io mi ritengo musicista aperto a qualsiasi tipo di contaminazione. Mi piace abbracciare più stili, più generi e sono aperto a qualsiasi tipo di esperienza. Diciamo che per il momento la mia musica va in un'altra direzione. Come nasce il progetto del tuo ultimo album? Il mio ultimo album è Moodin, che abbiamo registrato per La Verve, un'etichetta molto importante. Insomma, Moodin in realtà è un termine che ho coniato perché non esiste, vuol dire dentro il mood, dentro il mood del jazz. Il jazz è che piace a me fondamentalmente. Ho scritto alcune composizioni appositamente per l'Island Blue Quartet, che è una formazione di stampo cameristico, privilegiando l'aspetto sonoro del gruppo. E poi ho scelto alcuni degli start-up che mi piacciono di più. E insomma, alla fine è venuto fuori Moodin. Qualche mese vittoria a jazz, ma prima di allora dove ti possiamo trovare? Ma guarda, è un periodo molto intenso. Per me sto lavorando a tre progetti differenti. Ho composto tantissimi brani, quindi questo vuol dire tre progetti, tre gruppi, tre CD da registrare. Probabilmente a marzo andrò in Indonesia, andrò in India, quindi insomma cerco di portare la mia musica in giro per il mondo. E poi ovviamente il Vittoria Jazz Festival rimane una tappa fondamentale nel mio percorso artistico. Grazie a tutti.